buongiorno bentrovati buon sabato 15 ottobre oggi la chiesa ricorda santa teresa d'avila vergine dottore della chiesa teresa nacque d'avila in spagna nel 1515 entrata tra le carmelitane dopo alcuni anni afflitti da un incerto stato di salute e da molte esitazioni interiori si decise a percorrere a grandi passi la via della santità e della perfezione con l'aiuto di san giovanni della croce chiamava amichevolmente il mio piccolo seneca intrapese coraggiosamente la riforma del carmelo fondando le carmelitane scalze e incontrando molte tribolazioni ma alla fine ottenendo l'approvazione del papa pio iv fondò ben 32 monasteri che furono posti sotto la nuova e più ostera regola e san giovanni della croce formò fondò anche lui i carmelitani scalzi compose opere di profonda sapienza teologica e spirituale illuminati dalla carità e delle sue straordinarie esperienze mistiche morì ad alba e tormes il 4 ottobre del 1582 paolo sesto nel 1970 le riconobbe il titolo di dottore della chiesa universale ecco il vangelo di oggi secondo il nostro rita ambrosiano lettura del vangelo secondo giovanni in quel tempo si avvicinava la pasqua dei giudei e il signore gesù salì a gerusalemme trovare il tempio gente che vendeva buoi pecore colombe e la seduti cambia monete allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e buoi getto a terra il denaro dei cambia monete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi divorerà allora i giudei presero la parola e gli dissero quale segno ci mostri per fare queste cose rispose loro gesù distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere gli dissero allora i giudei questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere ma egli parlava del tempio del suo corpo quando poi fu risuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da gesù parola del signore il vangelo di oggi ci racconta la purificazione del tempio da parte di gesù questa lettura capita oggi perché domani sarà la festa molto importante della dedicazione del duomo di milano chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani e questa lettura in qualche modo vuole già prepararci a questa festa e a farci ci vuole far riflettere sul fatto che il tempio di dio deve essere luogo di santità casa di preghiera per tutte le nazioni e anche le nostre chiese sono un segno di quel tempio spirituale che devono essere le nostre comunità cristiane ed ecco allora la necessità di allontanare tutto ciò che non è puro tutto ciò che è egoismo tutto ciò che attaccamento al denaro tutto ciò che corrompe la santità del tempio di dio che siamo noi e anche al tempo stesso l'importanza di riconoscere nel duomo di milano la nostra chiesa madre che è segno della comunione di tutti i fedeli ambrosiani preghiamo gli uni per gli altri e quest'oggi vi raccomando in particolare la preghiera per i nostri cresimandi che tra stasera e domani riceveranno appunto il sacramento della confermazione preghiamo perché questi 67 ragazzi possano diventare veramente testimoni di cristo e comprendano quante grande l'amore che dio ha per loro e si mettano con gioia a camminare sulla via della sequela per essere sempre più discepoli di gesù buona giornata preghiamo gli uni per gli altri preghiamo per la pace sia lodato gesù cristo